ciao e benvenuto o benvenuta in questa new di office 365 oggi è il 15 ottobre 2023 e in data 10 ottobre 2023 office 365 attraverso il centro messaggi ci ha avvertito del fatto che entro la fine di ottobre 2023 entrerà in vigore questa nuova funzionalità si tratta di una funzionalità veramente interessante per lavorare che ci semplifica ulteriormente la vita e parliamo di mention nel senso che attraverso le varie applicazioni di office 365 quando veniamo menzionati cioè si antepone la chioccia poi si scrive il nostro nome ovviamente siamo membri dell'account office 365 ci arriva una notifica sull'applicazione quindi se veniamo menzionati dentro un documento di word di powerpoint di excel che è in onedrive riceviamo la notifica nell'app desktop di onedrive o mobile che ce l'abbiamo sul cellulare lo stesso dicasi per loop che ora andremo a vedere cioè per le attività a ciclo continuo con questa novità che partirà dice qui office 365 e microsoft entro la fine di ottobre 2023 invece sarà possibile ricevere direttamente tutte queste notifiche in outlook mobile quindi sul nostro smartphone scaricando l'applicazione di outlook mobile potremo ricevere le notifiche anche quando veniamo menzionati in un'attività ciclo continuo di loop in un documento di office 365 o in un messaggio di posto elettronica perché se tu non lo sapessi le menzioni si possono fare non soltanto nei messaggi di teams o di sharepoint o in un commento in un piano di planner lì è evidente ci sono c'è la funzionalità apposita per scrivere i messaggi e quindi si possono fare le menzioni ma le menzioni si possono fare anche in un messaggio di posto elettronica io qui non soltanto posso scrivere chiocciola e andare a scrivere direttamente a riccardo dominici ma riccardo dominici lo posso citare anche direttamente nel messaggio di posto elettronica quindi magari qui non avere scritto a riccardo dominici ma aver scritto a qualcun altro e dire che riccardo dominici si deve occupare di questo quindi con la nuova funzionalità mi arriverà automaticamente la notifica sul fatto che sono stato citato nel corpo del testo di un messaggio di posto elettronica ovviamente potrò andare a vedere di cosa si tratta lo stesso per quanto riguarda i documenti per documenti si intende tutto quello che si può pubblicare in one drive quindi file di excel powerpoint word come in questo caso anche in questo caso io qui potrei citare riccardo dominici riccardo dominici farà la relazione al bilancio nella prossima riunione del 24 gennaio 2024 ecco ancora io magari non sono stato informato di questi di questo la stanno programmando qui stanno facendo l'ordine del giorno della riunione in word e io essendo citato in questo messaggio riceverò automaticamente la notifica in outlook mobile lo stesso se vengo citato in loop qui le attività a ciclo continuo quindi qui per esempio stanno organizzando una riunione anche in questo caso io andrò a citare la persona che voglio citare qui dentro ecco riccardo dominici relatore sul bilancio se torniamo qui nel centro messaggi office 365 ci fa vedere anche un'anteprima di quello che accadrà ecco per esempio questa persona è stata citata nel corpo del testo di un messaggio di posta elettronica questa persona è stata citata in un file di excel questa in un file di word questa in un file di powerpoint quindi una funzionalità veramente interessante per lavorare e per ottenere la quale sarà sufficiente scaricare outlook mobile senza che sia necessario fare nessun intervento si potrà utilizzare direttamente ti aspetto alla prossima ciao 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 ciao